Appuntamento all'insegna della legalità con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Castellabate che hanno incontrato questa mattina online il capitano Fabio Lagarello, comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli e il comandante della Stazione Carabinieri di Santa Maria di Castellabate, Vincenzo Migliaro. L'evento si è svolto questa mattina e ha coinvolto i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per complessivi 100 alunni circa, assieme ai docenti delle classi interessate. Accolgo con piacere questa iniziativa dell'Arma dei Carabinieri perché la ritengo veramente formativa per i nostri ragazzi sul piano di consapevolezza digitale e dell'educazione civica, spiega il dirigente scolastico Gina Moriello. Sia nella didattica a distanza sia nelle situazioni quotidiane constatiamo che diversi adolescenti fanno un uso imprudente degli strumenti tecnologici e non sono consapevoli dei pericoli in cui possono incorrere con comportamenti superficiali che comportano rischi e oresponsabilità anche per i genitori. La prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo sono problemi che richiedono grande consapevolezza da parte dei ragazzi e una specifica attenzione da parte degli adulti. Inoltre il confronto diretto con autorevoli esponenti delle forze dell'ordine rappresenta un'esperienza forte che può far conoscere meglio il prezioso lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri e contribuire ad orientare concretamente i ragazzi nelle loro scelte quotidiane.